Cari amici in questa nuova puntata di salute vogliamo iniziare a parlarvi di terapia del dolore e per farlo abbiamo scelto un interlocutore d'eccezione che è il dottor Alfonso Papa che ringraziamo per il suo tempo, direttore dell'unità operativa complessa di terapia del dolore dell'ospedale dei Colli, in questo caso siamo al Monaldi. Dottor Papa noi in questo brevissimo ciclo di trasmissioni che dedicheremo a questo argomento così delicato e così attuale vogliamo partire però da un argomento molto specifico e molto tecnico e cioè la neurostimolazione che poi tutto sommato forse sta alla base di tutto ciò che noi racconteremo anche nelle prossime puntate. Che cos'è esattamente la neurostimolazione? Il dolore viene condotto dal sistema nervoso periferico e captato dal sistema nervoso centrale, i neuroni interloquiscono tra di loro mediante dei messaggi elettrici, le tecniche di neuromodulazione e di neurostimolazione sono tecniche che utilizzano le correnti elettriche direttamente sulle strutture nervose per cercare di parlare il loro stesso linguaggio. Quando utilizziamo dei farmaci infatti abbiamo bisogno di interpreti che sono generalmente i recettori che si trovano sulle strutture di questi neuroni. Utilizzando direttamente le correnti elettriche riusciamo a parlare direttamente la lingua del sistema nervoso cercando appunto di interferire. Esistono varie terapie che utilizzano le correnti elettriche per varie patologie, per il Parkinson, per le altre patologie del neuromotore, ma soprattutto queste terapie sono nate, si sono sviluppate proprio per controllare uno dei sintomi più presenti in tante patologie che è il dolore. Qui alle sue spalle abbiamo uno scheletrino divertente perché abbiamo messo un berretto da operaio, però lei qui ha una serie di sezioni e poi alcuni strumenti. Perché la neurostimolazione abbiamo capito da dove prende il via, ma come poi voi effettivamente la fate questa neurostimolazione? Il target principale è l'autostrada dove camminano gli impulsi elettrici che dalla periferia raggiungono il cervello, cioè il midollo spinale. Facciamolo vedere, prego. Il midollo spinale corre all'interno delle vertebre e raccoglie gli impulsi da tutte le radici nervose che arrivano qui lateralmente. Esistono delle strutture, dei fasci, soprattutto il fascio spinotalamico, che è un fascio che si trova posteriormente al midollo spinale, dove corrono tutti gli impulsi che riguardano il dolore. Noi possiamo andare a interferire con questi impulsi andandoli a modulare, quindi non a bloccare ma a filtrare, a regolare, perché il dolore cronico, il dolore neuropatico è una percezione di dolore laddove il dolore realmente non c'è, non c'è più la causa di dolore, ma si manifesta con una sensazione continua di dolore. Quindi è un impulso anomalo che noi andiamo a filtrare e cerchiamo di non fargli raggiungere il cervello. Questo si fa mediante l'installazione di uno strumento che si chiama neuropacemaker. E' come un pacemaker cardiologico. Le faccio da assistente. E' come un pacemaker cardiologico, praticamente, quelli che normalmente spesso vediamo, il nostro nonno, anche vicini di casa, che hanno qui sotto la clavicola. Esternamente è uguale, ovviamente la tecnologia che all'interno è molto più complessa. Questi pacemaker sono collegati a degli elettrodi, che sono più o meno di queste dimensioni. Gli elettrodi vengono inseriti all'interno del canale vertebrale e vengono messi a contatto appunto con le strutture nervose. Ecco, ma come tutta questa cosa si fa naturalmente con un intervento e con un'anestesia? Si tratta di un intervento chirurgico, intervento che si fa in anestesia locale. Non è necessario fare nulla di più, anche perché il paziente deve essere sveglio, deve guidarci durante i test neurofisiologici che facciamo in sala operatoria per vedere se il target corretto è stato colpito. Ed è l'intervento si fa in maniera percutanea, cioè non bisogna aprire, ma attraverso delle cannule, degli aghi fondamentalmente, si raggiunge il canale e all'interno di questi aghi vengono fatti scorrere gli elettrodi. Poi questi elettrodi vengono fatti passare sotto cute e collegati appunto al pacemaker, che viene posizionato in una piccola tasca sotto cutanea, generalmente a livello lombare, nella schiena. Mi diverte molto l'idea, lei ha portato una moneta, di fare vedere ai nostri amici da casa la dimensione di questo neurotrasmettitore. Lo spessore è minimo, praticamente una volta impiantato, a meno che non si è molto magri, nel grasso sotto cutaneo si perde all'interno. Senta, e poi è lui, il pacemaker, che decide come fare, quando farlo e per quanto tempo? Esistono degli algoritmi, ovviamente. La programmazione ovviamente avviene dall'esterno, avviene tutto in telemetria. Noi abbiamo bioingegneri che collaborano con noi, che si occupano poi della programmazione e della gestione dei programmi. A volte è necessario impiantare più programmi al paziente, ma a volte un programma per il giorno e un altro per la notte. Quindi è molto, mi scusi se reinterrompo, ancora una volta è un discorso tailor-made, come sta diventando sempre di più la medicina. Non esiste più una cosa che va bene per tutti, ma ciascuno può avere la sua terapia. Assolutamente, noi possiamo impiantare fino a 32 poli. Ogni polo può essere impostato come polo positivo, polo negativo, ma anche tutti e 32 possono essere impostati creando un vero campo elettrico, una vera geometria di stimolazione. E questo viene fatto sul paziente. Quando all'inizio degli anni 70 si impiantava un dissimulatore dove c'era un solo polo, il polo che fungeva da polo positivo e il polo negativo era la cassa del Pesemegro. Quindi era un solo programma. Quindi si partiva da un programma. Oggi con 32 poli possiamo avere programmazione di oltre 140 milioni di programmi diversi. Questi neurotrasmettitori hanno un risvolto della medaglia? Perché questa domanda gliela devo fare. Cioè c'è una controindicazione? Allora, il problema è che finché non facciamo l'impianto noi non abbiamo la certezza che funzioni. Però si tratta di un intervento completamente reversibile. Cioè non si va a modificare l'anatomia del paziente. Quindi nel momento in cui non dovesse funzionare oppure viene fuori una nuova terapia per quel paziente magari successiva che può curare quella patologia può essere spiantato senza andare a modificare nulla. Volevo ricordare anche quelle che sono le indicazioni principali della neurostimulazione. Oggi quella che si chiama Felebeck Surgery Syndrome che traduco che è la sindrome dolorosa cronica dopo chirurgia della colonna vertebrale che non significa assolutamente che l'intervento non è riuscito bene. L'intervento è riuscito benissimo ma la cicatrice post chirurgica ingloba all'interno delle strutture nervose della colonna del midollo spinale creando una sindrome dolorosa cronica. E la cicatrizzazione è soggettiva, non è prevedibile da soggetto a soggetto. E poi tutte le neuropatie periferiche, le neuropatie vascolari, le neuropatie diabetiche, anche l'angina instabile risponde molto bene a questo tipo di terapia. L'angina dove non c'è indicazione né a terapie di rivascolarizzazione né chirurgica né percutanea. Si può controllare il dolore di angina con la neurostimulazione. E poi tante altre patologie, diciamo, tra virgolette minore, quella che stiamo studiando con grande successo perché è una terapia priva di risposte ad oggi, è ad esempio la nevralgia posterpetica che è una patologia terribile dove abbiamo pochissime armi. Adesso con la neurostimulazione, con le nuove tecniche di stimolazione stiamo avendo dei risultati importanti. I suoi pazienti quanti anni hanno? E sono più donne o più uomini? La maggior parte dei pazienti sono anziani ovviamente perché sono pazienti che hanno sviluppato sindrome dolorose croniche alla schiena o alle gambe negli anni, numerosi interventi. Però esistono tante altre sindrome come le algodistrofie, le causalgie che sono post-traumatiche, post-chirurgiche. Mi riferisco alle causalgie degli arti inferiori, il ginocchio, del piede. E lì l'età probabilmente si abbassa. L'età si abbassa, sì. Abbiamo tanti pazienti giovani in questo caso. Allora, io la ringrazio molto. È una promessa o forse una minaccia. La verremo a trovare anche la prossima settimana per affrontare un altro interessante argomento. Grazie a voi per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento anche online su vgchannel.com. Alla prossima.